Musica Ok ragazzi Ultimo Ok C'ho altri tre pezzi di oro Ok Ultimo episodio Ultimo episodio Spero di no Quanto oro hai Ulisse Tre In realtà Salco Verrebbe che lo mangiassi Quanto abbiamo Sette e sette giusto Sì Sette e qui C'è dell'altro Oh dammi E c'è un'altra mela Quattro Cinque Sei Sei Basta Ah palle Salza l'acqua Dove stai prendendo Eh sto cercando Guarda dove arriva Troppo in alto Eh muoviti Muoviti però che stiamo Messi abbastanza male Dovevo incantare Bisogna incantare Veloce No il mondo Cominciare a stringerci Però noi siamo comunque Cerchiamo di salire In qualche modo Ma guarda scendi Vedi che ho visto La lava che L'acqua che scendeva Eh sto salendo con l'acqua Sto seguendo la cascata Non riesco a salire Ok presa Presa Ok arrivo Vai vai E facendo Piccone Io Hai già fatto tu Riveli Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ok Ho altri 5 libri Veloce Alla c'è Poi Arrivano a cuore la lava Prendi la lava Noi di qua Noi ci moriremo di fame Adesso passo Eh no io c'ho mezzo Cosciotto Libero Insomma Era di lava Buono Prendi la siliana Attento a non perderla Che già Abbiamo messi male Ok Vai 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 Sto avando Ci vorrà un po' A più pazienza Quante ne serve per il center? Veloce E qua 5 5 5 Veloce Veloce che stanno Tentando al centro E noi dobbiamo Forza arrivarci Dai tutte le cose Rischiose Che sfiga All'ultimo Dai cazzo Ce la possiamo fare Cazzo All'ultimo Prendi veloce Prendi veloce Vabbè ti porto Ti porto vai Ti porto Alla gato Non mi ha spaccato il blocco Ah no Merda No Tanto adesso te lo devo Mediare tipo Credo Ah Sei tu Ok Sto morendo Perché sto morendo? Non lo so Preso danno? Quanto danno hai preso? Lug terribile Lug terribile Ah merda Adesso No non so Forse stavo affogando Non lo so Credo Dai provaci dai Lug della madonna Veloce a incantare Veloce devo incantare Eh 4 Anche l'ultimo Lo fa tu il craft Sì sì Facciolo Ti butto addosso la roba Tienilo tutto pronto Ti butto la roba addosso Ah scusami Vabbè non ho niente Veloce veloce Arrivo Butto che non si dia Andava veloce Arriva Dai abbiamo 20 livelli Possiamo incantare tutto Incenta l'arco Incenta tutto quanto Vai Sì sì Incentiamo tutto Dai Ok vai 5 no? 5 I conti 5 6 Venite al centro Ti so Devo mandare al centro Veloce Non riesco a far più di 6 Sull'arco Protection Non ho livello Che andiamo? Xander Ok 8 sull'arco Power 1 Vabbè ma contento Io ho cotto la notore Incentata Un po' a meno 5 Vai protection Unbreaking Posso mangiarmi la mela? A sto punto Non troveremo Eh non so Se Sono deciso Ma vedi La fai? Quanto arrivi? Eh no 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 la mela l'ho già mangiata Dico Mangio la mela normalmente A sto punto Andiamo? Eh sì dovevo andare Eh mangio la mela normale Andiamo dai Andiamo C'è una fornace per casa piazzata? Eh Che piazza è una fornace Dove cuocere un pollo? Tieni Veloce Allora abbiamo Io e te Che io so a 5 E tu sei a 3 C'è Eren Che sta a 13 Biara a 13 Metano a 12 Sono messi benissimo Non si sono quasi dato Una picconata Che cazzo viene di qua Dobbiamo andare su Tu sei ancora qui Andiamo Io c'ho la spada inciandata Un'opera Ti interessa? No Andiamo Andiamo Voi una spada iniavante Scusami Eh sì direi eh Eh cavolo di meno prima Ve l'ho detto Inciandere spada Devi fare C'è quattro Precisi C'ho di un cuore in mezzo Che faccio? Vabbè vai A massimo vai lì C'è un finale C'è un dato Già da armatura Scusami Eh beh allora A posto Protection 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 Ah dovessimo saliti C'è qui Qui sotto Qui sotto Ma qua siamo andati Sicuro? Ok dai corri 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 Ah da qua No no ho chiuso Hai chiuso Ragazzi Sì sì stiamo andando Stiamo arrivando Stiamo correndo verso il centro Va bene Bocca al lupo Mamma mia Morti tutti siamo Mamma mia Bocca al lupo Ok Andiamo Mi dicono dei buchi Tipo nittotto Ho messo tipo la coppia Spaccala tu spaccala Ma fino a qua È possibile? No 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 Ragazzi chi ha fatto sta cacata? Sei tu che hai fatto sta cosa Ma che cazzo è? Sali qua Sali qua Altra parte Vieni vieni Non moriti Vieni andiamo Faccio io Faccio io Eh ma io ho bisogno di cibo Hai cibo? Eh no Lo sto consumando tutto Per saltellare Sui tuoi cazzo di gradini Che vuoi? Tanto comunque se correbbe lo stesso Quindi Sti cavoli Correndo Sto camminando Ah qui non devi saltare Noi salti Che consumo Ok Se siamo fuori Troviamo C'è una fornace Al volo? Sì C'è una fornace Al volo Eh mo troviamo due polli L'amazziamo cibo Al volo Eh però dobbiamo andare al mid però Siamo noi al mid Siamo già al mid Siamo qui davanti Guarda che ho chiuso un parecchie cose Ok Questo secondo Perfetto Io ho finito Noi ci troviamo tutti in faccia Può darsi Adesso trovi dei maiali al volo Maiale 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 Trovato Vai 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 Bastano due bistecche Una per me e una per te Oddio Sparano Oh C'è gente c'è gente C'è lo strozzo C'è lo strozzo C'è lo strozzo Ah Ho ucciso Ah knockback Knockback L'ho quasi colpito Quasi colpito Ho un cuore L'ho lasciato Ucciso Me ne adoro Me ne adoro Me ne adoro Porca cacca No mi ha ucciso Palle Oddio l'ho lasciato un cuore Non ci credo Ah GG però abbiamo ucciso Ma guarda che sta cosa è bellissima Ci hanno aspettato Ci hanno aspettato Uori Però abbiamo ucciso SP Joker E' stata una coincidenza E' stato Non c'hanno manco ucciso LOL GG GG No un cuore Luizio ce l'avevo fatta Eh dark Dark sa va a 16 Non ce la facevo mai Ucciderlo Vabbè Ragazzi Questo era L'ultimo episodio Ulizio perché sopportano GG ragazzi L'ultimo episodio Ci vediamo Nella prossima serie Ovviamente Ricordate che qui sotto Trovate in descrizione Tutti i link Per tutti gli altri partecipanti E nel frattempo Faccio la parte finale In cui faccio vedere Chi ha vinto Magari parliamo A dopo Grazie a tutti i link